Se dovessi raccontarvi tutto quello che ha fatto nella sua vita professionale, probabilmente prenderei tutto il tempo che abbiamo a disposizione. Si è occupata di fisica astroparticellare, ma ha attraversato tutto quello che è il mondo della ricerca italiana e non solo, nel senso che ha iniziato come ricercatore, prima all'Enea, poi all'NFN, ha girato il mondo nei vari contesti, quindi ha avuto relazioni con migliaia di ricercatori di tutto il mondo e è stata la prima donna responsabile, direttore del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. Io che sono 40 anni nella ricerca, devo dire che è stato un successo dovuto alla capacità, ovviamente, perché in quegli anni... Alla bellezza del laboratorio. Alla bellezza del laboratorio, però devo dire che ancora oggi per le donne nel mondo della ricerca c'è qualche difficoltà a emergere al pari delle donne e degli uomini. Quindi diciamo che per parlare del... io non mi dilungo sulle centinaia di pubblicazioni che ha fatto su riviste scientifiche con Refericon, o pubblicazioni o presentazioni a congressi, dico solo che a coronamento di questa brillante carriera, nel 2010 il Presidente della Repubblica gli ha conferito l'onore di essere commendatore all'ordine al merito della Repubblica italiana. Oggi ci parla di un tema particolarmente, diciamo, attuale, perché è da poche settimane che è stato firmato dal Paese, dal nostro Governo, un memorandum of understanding con la Cina per questa nuova via della seta. la professoressa Votano ce la illustra da un punto di vista forse meno usuale di quello che abbiamo potuto leggere sui giornali. Si parla di scienza, ad esempio, quindi di correlazioni un po' diverse da quelle che appunto possiamo leggere o aver sentito già dagli organi di stampa. Quindi io do la parola alla professoressa. Grazie mille, grazie della introduzione. Devo dire che quando ho dato il titolo di questo mio intervento, era circa quasi sei mesi fa oramai, la nuova via della seta, non avrei mai immaginato che poi questo argomento sarebbe diventato così popolare a seguito della visita di Xi Jinping, perché in realtà di questo programma che si chiama la nuova via della seta io ormai avevo sentito parlare già da alcuni anni. E questo grazie al mio percorso professionale che mi ha portato recentemente a partecipare ad un esperimento che si sta costruendo nel sud della Cina. E quindi questo ovviamente mi ha dato qualche possibilità in più di saperne della Cina. E diciamo che in qualche maniera posso dire di avere percorso anch'io l'antica via della seta, quella che da occidente in questo caso portava ad oriente, quella che ci evoca Marco Polo, le carovane che attraversavano la Siria, l'Iran, tutte le vaste distese asiatiche e che hanno consentito per millenni gli scambi, il commercio tra il bacino del Mediterraneo e la Cina. E in realtà il filo che mi lega all'Oriente dal punto di vista scientifico parte da più lontano nel tempo, in sostanza già dagli inizi degli anni 90. Allora questo mi ha dato la possibilità di vedere come negli ultimi decenni l'asse della scienza si sia progressivamente spostato invece da occidente verso oriente. Allora quello di cui tenterò di convincervi oggi, lo dichiaro subito così siete pronti, e che questo mutamento degli equilibri scientifici in realtà ha anticipato, e poi vi dimostrerò che è anche causato, il mutare degli equilibri economici e politici di cui stiamo prendendo progressivamente parte in coscienza in questi ultimi anni. Cioè la scienza sostanzialmente ha contribuito in maniera determinante, forse più che mai che nella storia dell'uomo, anche se lo ha sempre fatto, a modificare gli assetti geopolitici. E anzi, da modello di collaborazione pacifica, in qualche modo rischia anche di diventare il teatro di aspre battaglie economiche. Si parla infatti, non recentemente, perché Stefano Rodotaccio ha scritto un libro già credo alla fine degli anni 90, di tecnopolitica. Che si intende per tecnopolitica? Lui intendeva, ne dà una definizione, l'insieme di quelle modifiche che le innovazioni tecnologiche hanno portato non solo nel modo come la politica si rapporta con i cittadini, ma anche come si struttura in qualche maniera. E forse ci sono degli aspetti di questa cosa che non abbiamo ancora ben assimilato, perché mentre ci è chiaro come la tecnica, le nuove tecnologie, abbiano modificato il modo come governanti e governati si parlano, quello di cui ancora non abbiamo preso fino in fondo coscienza è appunto quanto la scienza abbia contribuito a modificare le relazioni internazionali, i rapporti di forza tra i paesi. E anzi, se ci pensate, sulla scena politica, possiamo dire, si sono affacciati dei nuovi attori transnazionali, accanto agli attori fondamentali della politica sono gli stati sovrani, che sono chi? Sono quei giganti della comunicazione e dell'informazione che a occidente si chiamano Google, piuttosto che Facebook, o Apple e così via, in Cina si chiamano Huawei, WeChat e quant'altro, e che sostanzialmente si contendono al pari degli stati sovrani il dominio del mondo con delle strategie concorrenziali che in realtà dipendono anche però dalle diverse culture occidentali e orientali. Ebbene, forse questo aspetto ancora noi non l'abbiamo ben esaminato. Bene, e l'Europa? Beh, l'Europa si sta sei in mezzo. L'Europa in mezzo rischia di essere schiacciata in questo nuovo scenario dei nuovi assetti geopolitici e quindi diventa sempre più urgente che si prenda coscienza del fatto che solo l'Europa, se unita, coesa, può, diciamo, se vuole, se vuole, mettersi su una strada virtuosa che è quella di investire molto di più in produzione di nuova conoscenza, quindi in scienza, in ricerca, in formazione, in cultura in generale. Perché questo è l'unico modo per tentare di sopravvivere, di reggere un po' la concorrenza con i vecchi e nuovi colossi mondiali. Bene, per darvi, appunto, per ricordarvi quanto è cambiato l'assetto geopolitico negli ultimi decenni, sono passati, appena se vi ricordate, diciamo, qualcuno se lo ricorda, ovviamente sono passati manco 30 anni in fondo da quando c'è stata la caduta del muro di Berlino che ha segnato in qualche modo la fine di quel periodo storico che è la guerra fredda tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. E molti, quando questo successe, dissero, bene, comincia l'epoca della Pax americana, cioè dell'egemonia incontrastata degli Stati Uniti, non solo dal punto di vista militare, ma anche dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista ideologico e culturale. in realtà le cose sono, come al solito, nella storia, la storia non si ripete, e sono andate abbastanza diversamente. L'inizio di questo ventunesimo secolo in cui noi siamo mostra una realtà molto complessa, difficile da analizzare, in cui sicuramente c'è stato il fenomeno dell'integralismo islamico. Si stanno riaffacciando anche recentemente un po' i fantasmi del passato, tipo politiche economiche protezionistiche, sovranismi, populismi, xenofobia. Però la vera novità, la vera novità, se volete, è che ha preso la scena mondiale una nuova potenza, che è la Repubblica Popolare Cinese, la quale sicuramente al momento non può competere dal punto di vista militare con gli Stati Uniti, però è al momento la seconda potenza mondiale e tecnologica al mondo. E c'è chi scommette, e sono in tanti a dirlo, loro lo dicono, ma tanti lo pensano, pensano che sia vero, che per la metà del secolo la Cina abbia superato gli Stati Uniti dal punto di vista economico e tecnologico. Quindi, come vedete, il mondo è tornato ad essere bipolare, gli Stati Uniti sono ancora uno dei due attori, ma l'altro è cambiato, ed è la Cina. Scusate, ho sbagliato. Ecco, quali sono le strategie? Voi vi chiederete perché un fisico vi stia a parlare di queste cose che riguardano la politica e l'economia, ma io ho dichiarato qual è il mio obiettivo, che è quello di dimostrare che queste cose sono la conseguenza di scelte ben precise in campo scientifico e della ricerca scientifica. E io sono un testimone. Bene, la prima volta, forse, che in Italia si è parlata di uno dei programmi, diciamo, che la Cina sta portando avanti è proprio questo della nuova via della seta. Ne abbiamo sentito parlare nel 2017 perché questo programma è stato lanciato da Xi Jinping nel 2013, se ricordo bene, però nel 2017 Xi Jinping ha invitato molti capi di paesi, circa 28 paesi, tra cui, vedete, c'era Putin e lì cerchiato col rosso c'è la testa di Gentiloni, che allora era il nostro primo ministro. Quindi, diciamo, questi contatti per la nuova via della seta risalgono già a qualche anno fa. E poi, sapete tutti, che recentemente l'Italia ha firmato questo accordo, un accordo, una specie di memorandum of understanding, quindi qualcosa di ancora un po' generico per certi versi, però ha firmato l'accordo sulla nuova via della seta. Bene, in che cosa consiste questo programma della nuova via della seta? La nuova via della seta è sostanzialmente un gigantesco progetto infrastrutturale che è stato lanciato dalla Cina per, se volete, rilanciare i fasti dell'antica via della seta, ecco perché si chiama la nuova via della seta, e sostenuto finanziariamente da questa banca, l'Asian Infrastructure Investment Bank, a cui hanno aderito nel tempo decine e decine di paesi, Italia compresa, che, diciamo, per influenza in qualche maniera comincia a fare concorrenza anche alla Banca Mondiale. Bene, che cosa vogliono fare? Vogliono sostanzialmente investire una quantità enorme dell'ordine del migliaio di miliardi di dollari e per confronto messo nel valore attuale quanto, che valore aveva il piano Marshall lanciato dagli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, vedete che c'è parecchia differenza. Bene, con questi investimenti intendono i cinesi sostanzialmente costruire una rete connettiva tra l'Asia e sostanzialmente soprattutto il Nord Europa. Una rete fatta di infrastrutture fisiche, autostrade, ferrovie, oleodotti, gasdotti, eccetera, ma anche accordi finanziari, ma anche vie digitali in qualche maniera. E forse qui coperti qui si vede un po' meglio, sostanzialmente ci sono quattro direttrici attraverso cui questi investimenti infrastrutturali dovrebbero essere realizzati, poi se ne sta prendo una quinta al Nord, partono tutte da Xi'an che praticamente quello che era il terminale dell'antica via della Seta. Allora, la prima più a Nord punta direttamente verso Mosca e poi per connettersi al Nord Europa. C'è una parte un po' più a Sud, un'altra ancora più a Sud che passa per Pakistan, India, i paesi arabi, la Turchia e i paesi balcanici e poi c'è la via marittima che in realtà esisteva anche ai tempi dell'antica via della Seta che come vedete percorre tutto il sud-est asiatico, intercetta l'Africa e voi sapete benissimo che la Cina sta investendo un sacco di soldi nell'Africa poi passa per il canale di Suez il Pireo il Pireo ma ne avete già sentito parlare la Cosco la società cinese sostanzialmente ha acquistato il pieno quasi il pieno controllo la maggioranza che gli consente di controllare il Pireo poi punta verso l'Italia i porti italiani adesso è stato interessato a Trieste però può essere che siccome la Cina sta già investendo in attrezzature portuali a Vado Ligure quindi potrebbe aprirsi anche la via della parte tirrenica sempre per ricongiungersi al nord Europa che è quello dove c'è il volume maggiore diciamo di commercio europeo quindi sostanzialmente è una rete connettiva di infrastrutture e i numeri sono enormi se ci pensate nel numero di persone paesi coinvolti riserve energetiche perché diciamo ha lanciato questo programma la Cina sicuramente per favorire il suo commercio indubbiamente ma in realtà voi sapete che attraverso il commercio gli accordi eccetera poi di fatto gli stati aumentano anche il loro ruolo sulla scena politica quindi è un modo per diciamo acquistare maggiore potenza soprattutto in quell'area euroasiatica in cui sostanzialmente gli americani non erano poi così presenti quindi hanno occupato sostanzialmente degli spazi lasciati vuoti sia dagli Stati Uniti ma anche dall'Europa e sta cosa nasce da lontano come al solito non è una cosa solo degli ultimi anni perché se volete bisogna risalire ai tempi di Deng Xiaoping cioè alle riforme economiche all'apertura al mercato la via cinese al socialismo le riforme degli anni 80 di Deng Xiaoping in cui anche negli anni 80 ma anche negli anni 90 i cinesi si sono accorti che il miracolo economico cinese che aveva fatto trasformato la Cina nella fabbrica del mondo sostanzialmente aveva interessato solo i paesi quelli diciamo sulla costa e invece tutta la parte ovest centrale ed ovest della Cina era un po' il sud della Cina era rimasto fuori dal miracolo economico per cui già nel 2000 avevano lanciato un programma per riequilibrare l'economia bene la via della seta in fondo estende questo concetto di sviluppare l'economia attraverso i commerci gli accordi finanziari eccetera ma al di là della Cina lungo queste direttive verso tutta l'Europa la via della seta non è l'unica diciamo strategia su cui sta puntando ovviamente la Cina ma vedete io nel 2005 ero a Pechino proprio per una riunione il 2015 scusate per una riunione di questo nuovo esperimento a cui partecipavo e ho potuto leggere questo articolo su China Daily in cui scusate in inglese sono stata pigra non l'ho tradotto ma sostanzialmente si parlava si cominciava a parlare di questo piano decennale della Cina che si chiama Cina 2025 che era il primo di tre piani decennali che intendono trasformare completamente in senso innovativo in senso delle innovazioni tecnologiche l'industria cinese l'obiettivo di questi tre piani decennali e quello per il 2049 che è il centenario della Repubblica Popolare Cinese che la Cina diventi appunto la prima potenza mondiale industriale ad alto contenuto tecnologico perché vedete lì sono enumerati settori su cui si intende investire per questa trasformazione in senso innovativo ad alta tecnologia dell'industria cinese e quali sono sono l'information technology la robotica l'intelligenza artificiale ma anche vi prego di vedere anche nuove forme di energia quindi magari tra un po' ci faremo dare anche delle lezioni dai cinesi dal punto di vista ambientale non mi sorprenderei la medicina biologica e così via adesso diciamo per farla breve cosa c'è dietro questi tre piani decennali c'è una strategia estremamente lucida da parte del governo cinese basata sulla consapevolezza che ormai nella società attuale l'obiettivo primario se si vuole sviluppare economicamente e socialmente un paese bisogna puntare l'obiettivo primario è la produzione di nuova conoscenza d'altra parte si dice che viviamo nella società nell'era della conoscenza che cosa vuol dire questo non è un concetto astratto vuol dire semplicemente che ormai vediamo che più del 50% della produzione industriale mondiale quella che sospinge di più le economie si basa su prodotti che incorporano un mix di ricerca scientifica di alta formazione e in generale di creatività di cultura io faccio l'esempio sempre del telefonino il telefonino noi lo paghiamo molto caro ma il suo costo non dipende né dal costo dei materiali né dal costo della manodopera il costo del telefonino dipende dal sapere che ci è incorporato dentro dalle conoscenze che sono incorporate questo telefonino che sono il risultato di ricerca scientifica di formazione di ingegneri ma anche di bellezza in un certo senso perché poi anche il telefonino deve essere accattivante quindi anche cultura umanistica diciamo questo è il modo di vedere occidentale forse un po' meno cinese però occidentale lo è di sicuro bene guardate che i risultati già si vedono perché voi non lo sapete ma per esempio non so se lo sappiate ma la Cina ha già il maggior numero di brevetti a un primato e avanti agli Stati Uniti per esempio nel 5G adesso il 5G non è solo l'estensione del 3G 4G 5G diciamo che ci cambia poco la vita no il 5G è un salto di qualità da questo punto di vista sul 5G si basa quello che Calduin chiama il terzo balzo della globalizzazione quello in cui come lui dice diminuirà il costo del trasporto delle persone ma non perché i biglietti delle aerei costeranno di meno ma perché con la telerobotica con la telepresenza eccetera probabilmente sarà sempre meno necessario che i lavoratori siano sul posto di lavoro cioè nel senso che un ingegnere che sta in Germania tanto per fare un esempio a caso guidi una industria che può stare in un punto qualunque quindi vuol dire parecchie cose vuol dire anche hanno dei primati sull'intelligenza artificiale hanno il super computer più grosso diciamo più potente anche nei computer quantistici non vi parlo di WeChat perché diciamo quando noi andiamo in Cina ci sentiamo un po' del terzo mondo perché noi che andiamo lì a pagare l'albergo con la carta di credito insomma veramente siamo indietro perché i cinesi fanno tutto con WeChat che è un aggregatore di app cioè tutto quello che noi facciamo con Whatsapp con Facebook con il pagamento della carta la prenotazione degli alberghi dei ristoranti qualunque cosa loro lo fanno con un'unica app diciamo che in realtà è un aggregatore di app che si chiama WeChat e anche l'allunaggio sulla parte nascosta della luna quello lì è stato il trionfo dell'intelligenza artificiale cioè non è la stessa cosa atterrare dalla parte visibile o dalla parte dietro diciamo quindi in qualche maniera questi risultati già si sono stati ma ovviamente questi risultati non è che vengono dall'ultimo solo dal piano decennale che è a metà cioè da cinque anni la cosa è molto diciamo parte da molto più lontano che vedete con la rivoluzione culturale Mao la distruzione dei libri lì sono stati i ricercatori venivano gli scienziati venivano mandati a zappare la terra quindi voglio dire ci sono stati dei danni enormi dal punto di vista culturale scientifico cioè nel 1980 veramente la Cina era una pulce come si dice proprio era inesistente dal punto di vista scientifico però appunto con le riforme economiche finanziarie sicuramente non voglio dire solo che è una questione di puntare sulla scienza però sicuramente mentre si sviluppava il miracolo industriale cinese i cinesi hanno cominciato a formare un numero consistente di ricercatori ingegneri le accademie cinesi le università cinesi i laboratori cinesi si sono visti arrivare una quantità molto considerevole di finanziamenti quindi che cosa voglio dire voglio dire che il miracolo economico cinese che ha in fondo in un periodo abbastanza breve portato fuori dalla soglia della povertà 800 milioni di persone che se ci pensate sono tante che ha contribuito a tenere su l'economia durante l'ultima crisi partita nel 2008 ha le sue radici nelle università nelle accademie sicuramente le riforme economiche sicuramente per carità non voglio essere così partigiana però vi assicuro che la Cina e adesso vi mostrerò i dati la Cina ha investito ormai da decenni cifre considerevoli nella ricerca scientifica nella formazione nel numero di laureati e in generale nella cultura il risultato di tutto questo è che l'asse come vi dicevo quello a cui ho assistito è che l'asse scientifico si è spostato progressivamente verso l'Asia e questo non è un fenomeno che riguarda solo la Cina perché il Giappone è un competitor scientifico di livello già ancora prima diciamo è partito prima il Giappone però adesso c'è la Cina c'è la Corea del Sud c'è l'India c'è la Cina in qualche maniera si presenta come un hub della della ricerca scientifica va bene vi mostro dei dati perché se no voi magari nel mondo ogni anno si investono dell'ordine di 2000 miliardi in ricerca e sviluppo va bene che sono pari all'1 e quasi 7 del PIL del pianeta che l'1 e 7 non è un numero piccolo e poi ve lo dimostrerò facendovi vedere quant'è che investe l'Italia bene il 40 e passa per cento di questo lo vedete in rosso il 42 e 67 di questi 2000 miliardi viene dal continente asiatico quindi il continente asiatico in questo momento è quello che investe complessivamente percentualmente di più rispetto all'America del Nord che significa Stati Uniti e Canada che sta appena sotto il 30% e guardate l'Europa l'Europa sta a meno del 21% allora vi prego di meditare sul fatto che appena cento anni fa l'Europa aveva il primato l'egemonia della conoscenza tanto è vero che dominava il mondo bene in cento anni siamo scivolati drammaticamente al terzo posto guardate adesso sia in assoluto che in percentuale rispetto al PIL chi sono le nazioni quindi lì erano i continenti qui diciamo le nazioni che investono vedete la Cina tallona da vicino gli investimenti statunitensi 444 contro 537 ma per gli USA sono il 2,8% cioè una bella già percentuale del PIL la Cina sta al 2% meno del 2% ecco perché ha lanciato questi piani decennali di innovazione di puntare ancora di più sulla conoscenza perché sa che deve ancora crescere maggiormente far crescere questo 2% ancora molto di più e c'è spazio per farlo per farlo crescere il primo il primo è la Corea la Corea diciamo non in assoluto ovviamente perché la Corea del Sud è un piccolo paese però la Corea investe il 4,3% del PIL in ricerca e sviluppo vi risparmio le altre chi è primo secondo terzo quarto e quinto lo potete leggere vi prego solo di porre l'attenzione su quanto investe l'Italia e vi assicuro che era l'1% adesso è un po' aumentato perché sostanzialmente è il PIL che non cresce quindi diciamo è il denominatore che gioca a far aumentare questo numero bene questo è quanto quindi effettivamente l'asse scientifico si è spostato in Cina allora la smetto di fare il tuttologo e di parlare di economia e politica che non mi competerebbe se non per questo aspetto che vi ho detto che diciamo di queste trasformazioni e di come la scienza abbia anticipato le trasformazioni e la presa di potere dal punto di vista economico e politico dal punto di vista della Cina io l'ho vissuta perché ho visto crescere la scienza in questi decenni perché diciamo la mia via della seta è partita da Frascati ho lavorato al CERN a Ginevra poi ad Hamburgo molto al laboratorio del Gran Sasso e come vi dicevo adesso sono sbarcata nel sud della Cina quindi perché faccio questo diciamo questo esperimento su queste misteriose intriganti particelle che sono i neutrini adesso appunto passo alla parte un po' più scientifica e cercherò nel cercare di spiegarvi che cosa fa questo esperimento di che cosa ci occupiamo quindi un po' più di parte scientifica e comincio col chiedervi che cosa e chiederci che cosa sia la scienza non vi sorprenda che per spiegare che cos'è la scienza io usi questo meraviglioso fresco di Raffaello che sta al Vaticano che si chiama la scuola di Atene perché perché la scuola di Atene è un inno proprio alla razionalità dell'uomo alla sua voglia di conoscenza quindi la scienza nasce proprio da questo dalla voglia di sapere di conoscere che cosa vuole sapere vuole sapere di che cosa è fatta il mondo qual è l'essenza delle cose e guardando all'universo i nostri antenati che guardavano seduti attorno al fuoco guardavano la volta stellata si chiedevano cosa c'è lì in cielo e questo ha avuto un'origine e se ha avuto un'origine quale sarà il suo destino futuro ebbene perché passo a questa fotografia questa è una fotografia del 1927 di un congresso di fisici per chi i nomi sono scritti in piccolo non si vedono tanto ma vi assicuro che se leggete quei nomi per i fisici c'è da farsi venire da farsi tremare i polsi perché è la fotografia col più alto numero di premi Nobel che mai fotografia abbia abbia registrato e naturalmente non ve li leggo tutti ma insomma in mezzo ci sta per esempio Einstein quindi sono nel 1927 erano già state poste le basi diciamo elaborate le due teorie su cui si basa tutta la fisica moderna da una parte la relatività di Einstein e dall'altra la meccanica quantistica che sono i due pilastri su cui ancora la fisica moderna si basa potrei fare una battuta femminista dire che in questa fotografia c'è una sola donna che è Madame Curie che per fortuna almeno aveva vinto due premi Nobel nell'affresco di Raffaello c'è solo una figura che qualcuno attribuisce a essere ipazia però l'attribuzione non è neanche tranquilla diciamo non è sicura ma diciamo a parte questa battuta perché io accosto la scuola di Atene a questa fotografia perché in fondo quello che si chiedono i fisici che cercano di capire i fisici sono esattamente quello di cui discutevano quei filosofi perché nell'affresco ci sono Socrate scusate c'è Aristotele e Platone che stanno in centro ma c'è Socrate c'è Pitagora c'è Oculide cioè filosofi e scienziati mescolati perché allora non c'era diciamo non si era ancora verificata questa separazione tra il pensiero diciamo quello che adesso chiamiamo il pensiero umanistico e le scienze in realtà diciamo sembrerebbe da questa fotografia che qui si sia verificata questa scissione ma in realtà non poi non è così anzi io auspico che si ritorni a una maggiore unità della cultura bene questo diciamo vi dicevo che il discorso riguarda l'Europa in quale senso nel senso che che cosa c'è di che cosa è successo tra il 1500 che era l'epoca dell'affresco e quella fotografia del 1927 c'è una cosa importantissima per la storia dell'uomo che la diciamo forse qualcuno dice che non è corretto dirle la nascita della scienza moderna perché ci sono degli storici che sostengono che la scienza moderna la scienza è così come la intendiamo il metodo scientifico in realtà lo troviamo anche in epoca ellenistica comunque lasciamo perdere questo quello che c'è è la nascita della scienza moderna la scienza moderna è una rivoluzione del pensiero umano che non è nato in un giorno idealmente si parla di rivoluzione del seicento ma in realtà parte tra Copernico e arriva fino a Newton in cui a opera di filosofi di scienziati quindi ancora l'unità della cultura c'è e sussiste si forma quello che è il metodo scientifico cioè questo nuovo approccio epistemologico basato sulla dialettica tra teoria e verifica sperimentale che ha consentito da allora in poi alla scienza di far progredire l'uomo di aumentare in maniera esponenziale la mole di conoscenze che abbiamo sulla natura bene e che cosa possiamo rispondere alla domanda di che cosa siamo fatti qual è l'essenza di tutto ciò che ci circonda ed anche di noi stessi io faccio sempre l'esempio che è classico immaginate di avere a vostra disposizione un microscopio ideale microscopio ideale in cui prendete un oggetto qualunque e microscopio ideale nel senso che potete con una manopola ideale aumentare in modo diciamo quanto volete il dettaglio cioè la risoluzione a cui con cui guardate gli oggetti ebbene cosa vi aspettate di vedere bene la scienza moderna ci dice oggi che vedremo con questo microscopio ideale dapprima una fila di atomi o di molecole per esempio ben ordinati come può essere in un cristallo poi vedremo quello che chiamiamo oggi l'atomo in cui ovviamente abbiamo visto che non è diciamo a sua volta composto da un nucleo e dagli elettroni poi abbiamo visto che il nucleo a sua volta è fatto di protoni e di neutroni e poi siamo arrivati a vedere che protoni e neutroni sono fatti di quark e a questo punto per ora ci fermiamo nel senso che i quark sembrano essere gli elementi ultimi i battoni fondamentali con cui è fatto tutto ciò che ci circonda non solo noi sulla terra ma anche l'universo almeno quello visibile poi sull'universo scuro lì si apre un altro capitolo bene e in particolare la materia stabile poi è fatta solo di due quark e di elettroni sostanzialmente questo microscopio ideale esiste ne ha parlato ovviamente la professoressa Pastrone prima di me l'avete già sentito questo microscopio ideale sono proprio gli acceleratori di particelle aumentando l'energia con cui le particelle si scontrano negli acceleratori sostanzialmente equivale a girare una manopola di un microscopio ideale che ci consente di vedere dettagli sempre più piccoli non solo ma siccome nello scontro tra queste particelle si diciamo si ha una concentrazione di energia molto elevata che sostanzialmente riproduce le condizioni di energia che c'erano immediatamente dopo il Big Bang noi diciamo sempre che l'acceleratore è anche una specie di macchina del tempo che ci consente di studiare l'universo così come era a frazioni infinitesime di secondo immediatamente dopo il Big Bang bene sapete avete già sentito che sulle HC ci sono quattro intersezioni con degli esperimenti l'altra cosa che abbiamo imparato è che esistono quattro forze fondamentali di cui quella più nota quella che l'uomo ha sempre sperimentato per prima è la forza gravitazionale ma c'è anche la forza elettromagnetica che è alla base della chimica se volete quindi della formazione degli atomi poi si passa a quella che tiene invece i protoni e i neutroni dentro il nucleo o meglio i quark di cui questi sono costituiti è la forza forte e poi c'è la forza debole che sostanzialmente è quella che interviene nei processi di decadimento radioattivo e che poi è quella che fa brillare nei processi di fusione il sole che ci dà energia bene diciamo se volete la summa di tutto quello che in decenni a partire dalla seconda guerra mondiale con acceleratori sempre più potenti sempre più potenti abbiamo imparato e diciamo si può riassumere in questo disegnino che in realtà poi è un'equazione come si dice la lagrangiana del modello standard un'equazione matematica che ci dice che sostanzialmente il mondo noi stessi e ripeto anche l'universo più lontano almeno la parte dell'universo luminoso è fatto da alcuni mattoni fondamentali da 12 mattoni fondamentali che sono 6 quark e 6 leptoni tra cui oltre all'elettrone ci sono altri due elettroni più pesanti ma vi prego di vedere che ci sono anche dei simboli greci che sono noi diciamo nu ma in realtà sarebbe ni neutrino che stanno per neutrino neutrino di tipo elettronico neutrino di tipo muonico e neutrino di tipo tau bene questo modello incorpora e sostanzialmente unifica su un principio di simmetria tre delle forze fondamentali e nel concetto moderno di forza la forza equivale ad uno scambio di altre particelle che vedete sono sulla parte destra del grafico che sono i bosone W e Z il fotone e i gluoni che sono i mediatori della forza forte ovviamente a questo bel quadro castello che in qualche modo è la forma moderna della tabella di Mendele IEF bancava qualcosa di fondamentale perché non diciamo bisognava spiegare com'è che queste particelle avessero acquistato massa bene questo meccanismo che dà massa è quello del campo di Higgs e finalmente nel 2012 al CERN è stato scoperto anche l'elemento mancante cioè la spiegazione di qual era il meccanismo che dava a queste particelle la loro massa senza la quale noi non staremmo qui ovviamente oggi a discutere bene quindi io ho detto che l'esperimento a cui stiamo lavorando in Cina si occupa di neutrini quindi abbiamo visto che cosa sono i neutrini i neutrini fanno parte di questi battoni fondamentali che costituiscono l'universo se vi piace vederla così immaginatevi l'universo io lo dico poi i miei colleghi mi spareranno però insomma io dico che l'universo è fatto come un immenso lego in cui ci sono i mattoncini in base ai quali componendoli in maniera diversa uno riesce a creare cose anche molto diverse fra loro e l'unica differenza è che questi battoncini non sono statici una volta che uno li incastra come nel gioco dell'ego ma come diceva Democrito stesso gli atomi cioè i mattoni fondamentali sono in continuo movimento lui diceva per noi questo vuol dire che sono in continua interazione fra di loro ma diciamo il concetto è questo cioè la natura diciamo l'essenza della natura è discreta cioè ci sono dei mattoni fondamentali non ulteriormente suddivisibili che miracolosamente combinandosi fra di loro dando luogo a tutti i fenomeni che noi osserviamo sulla terra e nell'universo bene allora passerei al neutrino che è l'oggetto dei nostri studi il neutrino è una particella elementare che non ha cariche elettrici abbiamo visto che esistono tre tipi diciamo come tre cariche diverse se volete nella forza elettromagnetica esiste quella che convenzionalmente chiamiamo carica elettrica positiva e negativa nel caso dell'interazione e le debole esistono tre tipi di cariche diverse invece che due è la carica elettronica muonica o tau ha una massa così piccola che ancora non abbiamo inventato una bilancia in grado di misurarla direttamente c'è un esperimento che tra un po' diciamo da anni in costruzione che dovrebbe darci una risposta definitiva e l'altra caratteristica è che il neutrino interagisce pochissimo con la materia interagisce solo attraverso la forza debole ma l'interesse dei neutrini è enorme perché insieme alla luce diciamo ai fotoni in generale sono le particelle più diffuse nell'universo bene una vi ho detto che una delle caratteristiche che il neutrino interagisca pochissimo con la materia a differenza per esempio della radiazione elettromagnetica quella che ci viene dal sole che ci scalda perché ci scalda perché diciamo la radiazione elettromagnetica interagisce con il nostro corpo vi deposita interagisce vuol dire poi vi deposita la sua energia bene il neutrino invece riesce a attraversare enormi strati di materia dando luogo a qualche interazione non proprio zero ma numeri statisticamente molto 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 piccoli ecco perché sono stati chiamati i fantasmi dell'universo perché appunto come il fantasma non passa da una stanza all'altra senza aprire le porte e non ne ha bisogno così i neutrini possono attraversare enormi strati di materia senza interagire l'altra caratteristica che li rende molto intriganti e hanno fatto impazzire per decenni i fisici è quella che non solo esistono di tre tipi ma viaggiando nello spazio e nel tempo riescono a trasformarsi dall'uno all'altro quindi per esempio noi sapevamo come più o meno funzionava il sole quindi ci aspettavamo un certo numero di neutrini dal sole c'era un esperimento che voleva misurare questi neutrini che sono sostanzialmente neutrini elettronici però ne ha trovati un numero molto inferiore diciamo significativamente minore di quello che ci si aspettava e lì è cominciato quello che si chiama il puzzle dei neutrini solari già decenni fa in cui non si sapeva se eravamo noi che non sapevamo calcolare bene cioè non avevamo bene chiaro come funzionava il sole oppure se i neutrini avevano qualche caratteristica peculiare l'assassino era proprio il neutrino perché nel viaggio negli otto minuti che impiegano i neutrini a viaggiare dal sole alla terra molti dei neutrini elettronici si erano trasformati in neutrini muonici e siccome l'apparato era in grado di vedere solo quelli elettronici ovviamente ne trovava molto di meno per cui non solo questo fenomeno che noi chiamiamo delle oscillazioni dei neutrini e la teoria è stata già formulata alla fine degli anni 50 da un altro grande fisico italiano che è Bruno Pontecorvo e in qualche maniera ce li fa oltre a questi neutrini ad assomigliare a dei fantasmi possiamo dire che sono anche dei camaleonti bene da dove vengono questi neutrini il sole sicuramente sulla terra una delle fonti principali diciamo il maggior numero di neutrini ci viene dal sole ogni centimetro quadrato della nostra pelle ogni secondo riceve dell'ordine di 60 miliardi di neutrini al secondo e tanto poco interagiscono che in tutta la nostra vita sostanzialmente si conteranno al massimo su due mani il numero di neutrini che si fermano nel nostro corpo cioè che interagiscono dando luogo ad altre particelle ce ne sono nell'atmosfera terrestre perché appunto dall'universo ci arrivano protoni ed altre particelle sia dalla nostra galassia ma anche da fuori della galassia che a contatto con l'atmosfera si moltiplicano enormemente danno luogo a sciami e sciami di particelle fra cui anche i neutrini scusate la terra anche la terra emette neutrini perché c'ha al suo interno nella crosta e nel mantello degli isotopi radioattivi di uranio torio e potassio che emettono neutrini e fra l'altro questo forse ci aiuterà a capire un po' meglio qual è il meccanismo di creazione e trasporto del calore all'interno della terra che forse qualche diciamo idea un po' meglio sul funzionamento dell'interno ce lo potrebbe dare quando una stella muore cioè che vuol dire che ha esaurito il suo combustibile voi sapete che la stella è una centrale nucleare non a fissione ma a fusione nel senso che brucia idrogeno e produce nuclei via via sempre più pesanti dall'idrogeno si forma l'elio poi quando è finito l'idrogeno brucia l'elio e produce nuclei sempre più pesanti bene quando arriva il ferro il combustibile sostanzialmente si è esaurito perché diciamo la reazione nucleare oltre il ferro non produrrebbe energia e bene nel momento della implosione della stella e della poi successiva onda d'urto che si propaga che poi è il fenomeno delle supernove anche lì viene messo un fiotto violentissimo di neutrini poi ci sono fenomeni violenti quello che si dice dell'universo violento in cui tipicamente appunto l'abbiamo visto in questi giorni sono sono interessati per esempio anche dei buchi neri bene in quel caso anche lì vengono emessi che agiscono un po' come degli acceleratori cosmici e quindi possono emettere anche neutrini e poi i neutrini sono apparsi nell'universo ben prima della luce a poche frazioni molto piccole di secondo e costituiscono al pari del fondo cosmico di microonde un fondo cosmico di neutrini che purtroppo ancora non sappiamo misurare perché se riuscissimo a misurarli siccome sono stati prodotti in frazioni molto molto piccole di secondo vicino al Big Bang ci darebbero la fotografia dell'universo non a 380.000 anni dopo il Big Bang come la luce del fondo cosmico ma molto ma molto prima ma oltre queste erano le fonti naturali in realtà l'uomo ha imparato anche a produrli i neutrini dove li produce agli acceleratori vi ricorderete forse vi ricorderete di questo fascio di neutrini muonici che era prodotto al CERN di Ginevra dal complesso degli acceleratori del CERN di Ginevra è indirizzato verso il Gran Sasso dove c'era l'esperimento Opera che era stato costruito principalmente per misurare questo fascio di neutrini muonici soprattutto per studiare in dettaglio in apparizione come il fenomeno delle oscillazioni cioè quello che ha trovato l'esperimento Opera è che su decine di migliaia di neutrini che si erano fermati nell'esperimento 10 neutrini si erano trasformati in neutrino tau e questa è stata la prova più diretta più immediata e diretta del fenomeno delle oscillazioni questo è avvenuto come vi dicevo al laboratorio del Gran Sasso che mi auguro che abbiate la possibilità di visitare perché ancora oggi è il più grande e il più importante dei laboratori sotterrani dedicati a questo settore che si chiama la fisica astroparticellare che è un po' a metà tra fisica delle particelle elementari e cosmologia ed astrofisica anche qui il nostro primato potrebbe essere levato a breve da un laboratorio cinese anche qui bene e l'altra fonte di neutrini artificiali sono invece le centrali nucleari a fissione quelle che ci danno energia che sono una sorgente più che di neutrini di antineutrini che sono le antiparticelle dei neutrini e allora diciamo che molti fisici fra cui me stessa per inseguire i neutrini come vi dicevo ci siamo messi anche noi idealmente sulla via della seta per andare in Cina dove nel sud della Cina stanno costruendo un complesso di centrali nucleari molto potenti quindi daranno anche un flusso molto forte di antineutrini che è quello che ci serve per continuare a studiare queste particelle estremamente intriganti perché vedete il fenomeno delle oscillazioni ci ha dimostrato in maniera se volete sorprendente rispetto a quello che diceva il modello standard delle particelle che i neutrini hanno una massa però siccome dipende dal quadrato delle differenze dei neutrini non dalla massa dei singoli neutrini direttamente diciamo quindi noi non sappiamo qual è l'ordine delle masse e siccome questo è importante per la intima conoscenza di queste particelle quindi lo scopo principale di questo esperimento è quello proprio della cosiddetta gerarchia di massa dei neutrini poi però essendo un esperimento molto grande adesso vi mostrerò un disegno ovviamente può fare molte altre cose tipo i neutrini solari i neutrini se ci sarà un fenomeno di supernova cioè nella nostra galassia e i neutrini che vengono dalla terra quindi diciamo è un esperimento di ultima generazione per migliorare la nostra conoscenza di queste particelle molto particolari molto intriganti ma anche molto importanti perché sono una delle particelle più numerose dell'universo perché in Cina ve l'ho detto un motivo se volete è quello che troviamo lì delle centrali nucleari che ci danno un numero sufficiente di antineutrini per gli scopi scientifici che noi vogliamo raggiungere ma non è l'unico motivo questo esperimento che si chiama Juno è un esperimento che costa 300 milioni di dollari ed è finanziato al 95% dai cinesi quindi diciamo se volete i motivi sono più di uno sono più di uno la collaborazione siamo circa 600 persone in questo momento da 70 istituzioni di tutto il mondo di cui il 60% sono cinesi ma il 40% non so se riuscite a leggere molto dall'Europa dalla Russia ma anche da altri stati asiatici e in che cosa consiste vedete che è un'enorme sfera di 40 metri di diametro riempita di questa sostanza che si chiama scintillatore liquido che quando uno dei pochi diciamo a interagire ad essere fermati dal rivelatore si innesta un processo nello scintillatore liquido per cui vengono emessi dei piccoli lampi di luce questi lampi di luce ci permettono di ricostruire diciamo qual era l'energia quali erano le caratteristiche dei neutrini che hanno interagito dentro questa enorme sfera questo tipo di esperimento con lo scintillatore liquido è l'estensione se volete di un esperimento che esiste già al Gran Sasso che si chiama Borexino che ha studiato i neutrini solari solo che Borexino è di circa mille tonnellate di scintillatore queste sono 20.000 tonnellate di scintillatore quindi voi capite che diciamo c'è una una certa scala e vi dico un particolare di questo esperimento perché è interessante questi piccolissimi e debolissimi lampi di luce sono visti complessivamente sia nello scintillatore ma anche nell'acqua si usa l'acqua che circonda questa enorme sfera per capire quali sono gli eventi di fondo vabbè adesso non ho molto tempo per spiegarvi ma insomma ci sono 40.000 o 45.000 di questi fotosensori molto sensibili che rilevano questi lampi di luce ebbene nel campo della ricerca e non solo questi fotosensori che noi chiamiamo fotomoltiplicatori praticamente il monopolio di chi li produceva è una ditta giapponese che si chiama Lamamatsu i cinesi secondo il loro schema in cui gli investimenti vengono dati alla ricerca ma in qualche maniera molto in connessione anche con l'industria che cosa hanno fatto i nostri colleghi per tempo hanno attivato un certo numero di ditte cinesi e gli hanno chiesto di sviluppare dei fototubi che avessero le qualità le caratteristiche di quelle giapponesi ebbene ci sono riusciti adesso la maggior parte di questi 45.000 fotosensori che noi useremo in giuno sono di produzione cinese e questo non riguarda solo il mondo della ricerca perché questi fotosensori sono usati anche appunto nella medicina in molti altri settori ecco quindi vedete se volete un esempio minimo piccolo per certi versi però significativo di come non solo la scienza produca diciamo produca nuova conoscenza e nell'era della società della conoscenza questo voglia dire sviluppo economico ma produce anche in un campo come quello dei neutrini che è un campo di ricerca fondamentale che vuol dire che non c'è uno scopo preciso cioè se voi mi chiedete a che cosa serve questo esperimento da 300 milioni di dollari io vi ho detto sì per stabilire la gerarchia di massa dei neutrini ma sono tutte cose che interessano ai fisici se volete se voi mi dite qual è l'applicazione pratica non c'è in questo momento non c'è tra 50 anni sicuramente esisterà però adesso ancora non c'è quindi la Cina vedete non solo ha investito enormi quantità di soldi nelle università nell'accademia delle scienze nei centri spaziali eccetera eccetera ma e perché ha capito qual è la stretta relazione che c'è tra investimento in ricerca e formazione e sviluppo economico ma lo fa anche nel campo della ricerca fondamentale perché i veri salti di conoscenza vengono proprio dalla ricerca fondamentale allora vengo alle conclusioni perché penso di essermi allungato un po' troppo le conclusioni come vi dicevo sono che viviamo nell'era della conoscenza cioè che vuol dire una cosa ben precisa cioè che scienza e cultura sono i motori principali dello sviluppo e del benessere delle nazioni e il loro sviluppo come ho cercato di dimostrarvi ha anticipato proprio il mutamento degli equilibri politici e economici sullo scenario globale e dobbiamo ricordarci che la conoscenza è stato il collante stessa dell'Europa diciamo dell'Europa come insieme diciamo al di là della Unione Europea quel collante che gli ha consentito fino a cento anni fa fino all'inizio del secolo scorso di dominare il mondo allora il declino dell'Europa alla luce di queste considerazioni ci appare più chiaro perché l'Europa ha perso questo rapporto privilegiato con la scienza con la conoscenza di cui aveva sostanzialmente l'egemonia e allora qual è la conclusione è che dobbiamo credere tutti molto di più essere convinti di questa forza della scienza della nuova conoscenza e puntare su questo triangolo cultura istruzione e ricerca e vedete che il triangolo della scienza se volete della conoscenza non vuol dire solo aumentare la nostra conoscenza non vuol dire solo sviluppo economico ma vuol dire anche diffusione di diritti e valori universali perché la scienza si fonda sulla cooperazione le grandi collaborazioni internazionali mettono insieme ricercatori da tutto il mondo palestinesi israeliani pakistani e indiani cioè anche paesi che sono in guerra fra di loro al limite è estremamente è intrinsecamente democratica la scienza perché non vale nessun principio di autorità valgono i fatti sperimentali e soprattutto si basa sulla razionalità si basa diciamo su questo metodo universale perché non c'è la scienza occidentale europea americana o cinese il metodo cinese è un linguaggio un metodo universale che è valido ovunque e ci permette di rispondere alle domande a cui cercavano di rispondere i tanti filosofi rappresentati nell'affresco di Raffaello grazie sono così dovrebbe esserci da programma però non vedo movimento per cui se qualcuno ha delle domande da fare hanno rinunciato per disperazione buonasera è stato assolutamente interessante e per certi versi lei ha dato una risposta a Cacciari che l'altro giorno in parte ha concordato con lei in una sala qua vicino dicendo che la scienza è nata in Europa dopodiché ha lanciato forse il cuore oltre l'ostacolo ma non so se ci crede pure lui e ha detto che se l'Europa intanto deve riuscire a federare gli stati che al momento compongono l'Unione Europea e poi deve federare il mondo perché né Russia né America né Cina sarebbero in grado di farle e mi sembra che lei invece abbia detto che in questo momento forse la Cina è più avanti di noi la seconda riflessione che faccio e che pongo alla sua valutazione è che potremmo dire che l'Europa che è stato che è una delle aree geografiche in cui i mercati hanno prevalso l'Europa e il mondo occidentale sta perdendo la battaglia per quello che riguarda la scienza e la sta vincendo un'area geografica dove c'è uno Stato forte uno Stato che investe e quindi potremmo dire che la Cina è la dimostrazione che lo Stato vince di fronte al libero mercato bene lei mi chiama a nozze con tutte queste domande cercherò di rispondere l'Europa l'Europa è chiaro che nessun paese singolo europeo ovviamente questo concordo non è la Germania non è la Svezia che pure sono in Europa quelli che investono di più possono competere da solo competere da soli quindi è chiaro che l'Europa si deve federare perché altrimenti diciamo i centri decisionali non si ha un'unica strategia dal punto di vista scientifico e vi do due prove diciamo che quello che dico è vero una prova la prima prova positiva è il CERN di Ginevra il CERN di Ginevra è nato nel 1952 cioè insieme alla CECA che era la comunità dell'acciaio e del carbone che sono diciamo i primi nuclei di istituzioni europee e a differenza poi dell'Unione Europea il CERN proprio perché si basa su questa cooperazione su questo spirito ideale su questa voglia di conoscenza non ha in un certo senso subito quelle crisi profonde sì qualche crisi economica sicuramente c'è stata però non c'è stata quella crisi a cui abbiamo assistito poi nell'Unione Europea ebbene lì dove l'Europa si è federata lì l'Europa primeggia perché l'LHC il Large Hadron Collider e il CERN di Ginevra l'LHC è il più potente acceleratore in questo momento al mondo e il CERN è il più importante laboratorio mondiale mondiale di fisica delle particelle quindi questo che cosa dimostra? dimostra che quando l'Europa sa federarsi sa mettersi insieme lì continua a primeggiare e guardate che il rischio di perdere anche questo primato c'è perché adesso recentemente il CERN ha presentato il suo programma dopo l'HC un super super acceleratore da questo l'HC 27 km quello sarà 100 km 13 tev contro 100 tev bene questo progetto il CERN dice lo faremo se abbiamo i soldi ovviamente entro il 2040 già poco tempo prima non tanto tempo prima i cinesi avevano presentato il loro progetto analogo analogo anche quello 100 km 100 tev magari solo elettrone positrone ma insomma diciamo è un dettaglio e dicono di farlo entro il 2030 adesso io non credo che se ne faranno due al mondo perché diciamo non abbiamo forse la forza di fare però non è detto che il prossimo super acceleratore si faccia al CERN di Ginevra io non ci scommetterei quindi anche in questo rischiamo qual è l'esempio negativo? le onde gravitazionali perché è un esempio negativo le onde gravitazionali eppure i nostri ricercatori di Virgo hanno partecipato alla scoperta delle onde gravitazionali perché è negativo? perché il premio Nobel l'hanno preso gli americani e perché l'hanno preso gli americani? vi assicuro che gli interferometri che sono questa tecnica con cui sono state scoperte le onde gravitazionali sono partite in parallelo in Europa e negli Stati Uniti c'è stata una persona che da questo punto di vista ha avuto un ruolo enorme che è stato il Giazzotto che purtroppo è scomparso recentemente e per anni insomma la cosa era qual è stato l'errore dell'Europa che questo interferometro Virgo si è una collaborazione italo-francese poi si è unita all'Olanda la Germania aveva il suo l'interferometro cioè non si è ripetuta per le onde gravitazionali la stessa federazione europea diciamo non è stato un progetto europeo così come il CERN sarà un caso però guarda caso poi le prime onde gravitazionali ancorché abbiano partecipato all'analisi però lo strumento con cui sono state viste erano i due interferometri americani non solo per questo ma diciamo il Nobel è andato agli americani potrei fare altri esempi di Nobel mancati in Europa ma lasciamo perdere quindi diciamo dove secondo quindi sicuramente è vero l'Europa se vuole competere si deve federare cioè la strategia deve essere abbiamo bisogno di più collaborazioni quelle collaborazioni che nel nostro campo sono abbastanza comuni devono essere stese europee devono essere stese a tutti i campi di ricerca abbiamo bisogno di più infrastrutture comuni quindi sicuramente dobbiamo federarci di più e secondo me in Europa abbiamo qualcosa di più perché io quando parlo del triangolo non è una mia idea era un modo di dire di Umberto Eco del triangolo della cultura lui ci metteva la terza gamba che era la cultura umanistica la creatività e in questo secondo me l'Europa ancora forse ha qualcosa da dire in più va bene potrebbe potrebbe dire quindi sì sono d'accordo bisogna federarsi bisogna possiamo ancora competere però dobbiamo avere una strategia comune perché diciamo se no altrimenti saremo completamente schiacciati non so se ho risposto se mi soppersa qualcuna delle tante domande il libero mercato ah ecco su questo secondo me non ne farei un sillogismo che per procedere nella scienza bisogna avere uno stato a partito unico perché questo nemmeno un mercato che è il risolutore di tutti i mali sì però voglio dire basterebbe basterebbe avere una strategia comune io insomma non vorrei parlare di politica però diciamo se io potessi se io potessi parlare di politica direi che se vogliamo rilanciare l'Europa vogliamo rilanciare l'Europa l'Europa va rilanciata sulla base di qualche sogno di qualche ideale in più allora per me la cosa su cui va prioritariamente rilanciata l'Europa è proprio la conoscenza cioè la consapevolezza che l'Europa deve tornare a puntare in maniera prioritaria sulla conoscenza cioè io dico qualcosa di più l'Europa come ci impone il 3% sui vincoli di bilancio perché non impone che tutti gli stati investano il 2% non dico tanto il 2% in ricerca e sviluppo guardate che cioè l'ha fatto perché con la strategia di Lisbona la strategia di Lisbona voleva raggiungimento appunto mi pare del 3% se non sbaglio medio in Unione Europea per il 2010 e perché è fallito sicuramente perché è intervenuta la crisi economica ci sono anche motivi diciamo contingenti ma il vero motivo è che le decisioni in campo della strategia scientifica e della ricerca i centri decisionali sono tanti non abbiamo un unico centro decisionale in Europa e ripeto l'esempio positivo è il CERN che dimostra che lì dove questo è riuscito lì ancora primeggiamo nel mondo qualcosa l'Europa sta facendo perché nel prossimo programma quadro ha messo 100 miliardi di euro il problema è come vengono investiti lo so la sensibilità c'è no ma diciamo figuriamoci se in Europa ci manca la cultura per capire la stretta relazione che c'è tra investimenti ricerca e sviluppo economico sociale cioè non è certo quella la cultura manchiamo di unione di coesione più che di unione di coesione nelle strategie qualche altra domanda? anche l'India che è un paese in sviluppo anche l'India appunto punta sulla scienza sulla conoscenza oppure altre? sì sì beh diciamo adesso non ho qui numeri c'è una rivista che si chiama Rendy Magazine se è interessato la può andare a cercare su internet io lì ho riportato delle nazioni solamente alcune non le ho riportate tutte però già nel nostro campo per esempio l'India ha dei progetti quindi sicuramente sta puntando sulla scienza anche l'India poi l'India in qualche maniera aveva una buona tradizione in matematica già da parecchio tempo quindi molti professori nelle università americane sono indiani a insegnare l'America si è arricchita con gli emigranti quindi con gli immigrati non gli immigrati grazie c'è qualcun altro dopo di che chiudiamo e ringraziamo la professoressa potremmo fare una sintesi dicendo che l'Unione Europea sta uccidendo l'Europa una sintesi beh no adesso non lo so che cosa intende diciamo io la vedrei in positivo che se vogliamo rilanciarla dobbiamo trovare degli argomenti di valore in senso valore universale sicuramente la conoscenza è uno di questi diciamo io direi di ringraziare la professoressa grazie 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 grazie